Ieri le primarie ha vinto De Luca, secondo lei è il candidato che può unire tutta la sinistra contro Valdoro? No, questo non lo so. Non lo so, dipende ovviamente da quello che dirà e quello che farà in particolare De Luca e il suo partito a livello nazionale e poi ognuno farà le proprie valutazioni. Io ho già detto quale sarà la mia posizione per le regionali, l'ho detto qualche giorno fa a proposito di Daniele e la confermo la stessa posizione oggi.